salve a tutti bentornati sul canale youtube di svapo di guancia io sono allen e oggi ahimè mi tocca devo recensire un genesis forse la prima volta da quando faccio recensioni che lo faccio su youtube però non credo che questo sia un problema si tratta di eccentric club che è un moderno giapponese che ha fatto questo genesis qua che ve lo farò vedere come come è composto cosa c'è dentro il packaging come sono le spare parts per fortuna sono poche quindi potremmo concentrarci sulla parte tecnica che quella che a me viene meglio questo qua acciaio inox super carino poi vediamo come va però intanto la sigla ecco come si presenta il packaging alla fine è una specie di borsello per portare in giro l'atom con la box adesso vi faccio vedere poi vi farò vedere anche due spare parts che ci sono dentro però per fortuna ce ne sono pochi e sinceramente ce ne frega meno di zero più o meno si presenta così poi ho letto una cosa da una parte c'è scritto un motaro jeans non so cosa sia magari una marca giapponese fighissima qua si attacca alla cintola molto super tamarissimo made in japan questo qua invece sono gli spare parts praticamente c'è uno ring di ricambio per tutto e due vitine via adesso vi faccio vedere l'automizzatore a questo aspetto o un po militaresco è se ci fate caso sembra una non so una cana del fucile però è tutto in acciaio inox benissimo costruzione veramente bella tutte le finiture sono molto fiche adesso ve lo smonto a questa cosa molto molto intelligente che che riguarda il smontaggio praticamente questa parte qua che è la campana che tutto pezzo unico a parte drip tip che si smonta che a questa questo labbro di fermo non so come cosa serviva perché secondo me un po fa un po chiude una specie di dissipatore però non ha molto senso perché dal punto di vista termico c'è già un'interruzione con il ring quindi ma vedrai qua dentro invece c'è questa specie di svasatura adesso ve la faccio vedere un po meglio c'è la svasatura che molto probabilmente fa un po tipo anticondensa però tipo è bello largo non me lo aspettavo questa è la tip questa è la campana che anche questo è pezzo unico se guardate bene ci sono questi due peduncoli pirolini che uno è più largo nel più stretto che poi corrispondono dentro a questa chiave qua per poi smontare il ma campana campana è ben strutturata ben strutturata per quello che piace a noi infatti va bene con i tabacchi ma poi ve lo dirò e con con questo indicato dentro fa un po tipo una cupola vera e propria se lo faccio vedere perché e allora ho fatto fatica della miseria a fare questa recensione perché fare recensione le cose tipo la mer sono tecnicamente più difficili vedete peduncoli lavorazioni c'è qualche traccia di fresa perché secondo me gli vibrava un po però verso della serie chi se ne frega basta queste robe maniacali invece questo qua è il suo dec adesso faccio vedere come si smonta vantaggio vero e proprio di questo atomizzatore che il deck si può tirar fuori che poi ci aiuterà nella rigenerazione tantissimo che vi farò vedere basta inziccare dentro nei suoi fori giusti si svita sotto fonderon c'è scritto niente bello liscio vede che tipo ci sa fare però un po che non ho ancora capito il principio del secondo me delle chicche hype scritte laser però ci sta onesto molto 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 agricola come facendo bene notone isolato che poi va a finire dentro del positivo questo è positivo questo qua è positivo che ha delle scanalature che poi vi farò vedere cosa servono perché non sono casuali a un foro da tre qualcosa infatti mi sono fatto un attrezzo in realtà l'ho trovato per terra non è che mi sono fatto niente cioè questo qua una di quelle punte vecchie che facevano da l'alesatore che se ci fate caso a un piccolo gradino vediamo si vede qua c'è un piccolo gradino questo gradino qua ci aiuta a fare un po da fermo qua perché facendo un po di conti sono uscito a trovare questo appunto qua poi vi darò la misura che praticamente si rigenera così scusate bisogna tenerlo così e poi si puoi fare la coi intorno allora le torrette sono un po basse non c'è molta differenza tra le torrette perché alla fine non lo so un po sulla fals falsa riga del colato giapponese che è uscita recentemente cioè quindi ci può stare non so quattro spire ma di filo sottile neanche neanche chissà cosa però sarà una roba che magari sono scompiazzati tra di loro perché come è successo anche da noi tanti anni fa quando uno ha trovato l'architettura insomma dimensioni giuste vabbè scompiazzato un po tutti cambiando un po quattro robe ma fine a tutti uguali è uno rin qua uno alla base e pin sporge sufficientemente per per usarlo sul meccanico anche perché c'è poi c'è sull'attore infatti l'ho usato sul meccanico però da punto di vista costruttivo si vede che tipo ci sa fare che uno che veramente usa la mesh che insomma non è non è sempre una regola qua c'è questa specie di vaschetta di recupero probabilmente se c'è un po di condensa così va a recuperare due viti a croce belle lunghe adesso faccio vedere no è bellino come atto mi è piaciuto mi sono divertito perché stefano continuo a dirmi no no faglio fare eccessione però io io preferisco studiare un po prima di dire cavolate anche perché diamina una reputazione da difendere questo foro vi dicevo io avevo misurato in precedenza un tipo 3 e 2 3 2 3 3 25 quindi io pensavo di fare una una mesh con foro da 3 così diamo un po di aria laterale poi adesso proverò ingrandirlo un attimino esatto qua parte un po di un po di tracce di lavorazione però a me non dispiace ma sinceramente sembra un po di casca casse di orologi di una volta che si aveva passata della fredda qua c'è questa specie di aslina per me ha cercato di fargli passare più aria perché ovviamente tutti i generi funzionano bene se c'è un buon flusso scambio liquido aria perché noi condottoriamo aria da qualche parte deve entrare nel deck se no si si non alimenta insomma per farlo alimentare meglio secondo me è lasciato questa solina qua stato furbo invece il posizionale negativo e negativo hanno questa in questo invito che praticamente filo può entrare o di qua no anzi può entrare solo di qua e di là e qua invece ha fatto gli ha dato una direzione che poi vi farò vedere quando rigeneremo gli ha dato una direzione che c'era questa parte perché qua così quando atto mi chiuso secondo me aveva paura che adesso cerco beccarlo ecco aveva paura che toccasse dentro magari qualche residuo di di filo perché qua è massa secca e non va niente quindi secondo me gli ha fatto questa questa scanalatura in per scansarlo un po da da questo pirolino qua stessa cosa anche di sopra che abbiamo due due ingressi poi vi spiegherò anche perché due ingressi perché comunque si possono fare due tipi di coil che finiscono in modo diverso però dobbiamo semplicemente capire quale tipo di leg vogliamo lasciarli perché ovviamente tra due tra positivo e negativo la lunghezza delle leg che sono fondamentali per funzionare devono essere lunghe uguali se no essendo un contesto elettrico molto delicato perché comunque la mesh conduce non ci devono essere contatti a massa con con la carcassa ne ci deve essere una leg più lunga dell'altra perché dopo va sicuramente in hotspot e cavolo è furbo questo qua mi è piaciuto adesso per rimontarlo devo semplicemente anzi no bisogna metterlo dentro che funge un po da chiave qua ha fatto una specie di scarico che poi può essere usato anche per per smontarlo perché tutti e due lati quindi da un po di tenuta insomma qua questo è il fondo del tank contiene tipo 2,2 ml secondo me però non essendo trasparente è difficile dire se è pieno o meno perché magari prende la bolla io più o meno sono uscito a capire che qualcosa tipo 2 ml sotto c'è un filettone sempre 510 quindi un proseguimento ecco si colloca in questo modo foro d'aria ed è 1,2 lo misurato oggi con una certa accuratezza quindi foro singolo che poi anche il giro d'aria un po particolare perché non è che lui va direttamente non va direttamente sulla coil ma fa un giro particolare che non è chiaro come funziona perché oggi ho visto sul loro gruppo che c'è c'è uno che ci metteva uno ring in silicone per ridurli il rumore perché effettivamente un rumoroso un pochino un pochino fisca però è tanto carino mi è piaciuto un botto adesso io lo rismonto poi vediamo di fare una coil decente senza vergogna e vi faccio vedere come funziona allora io userò una 325 mesh in acciaio inox quindi la mesh non quelle robe lì che usano adesso incanta per alimentare quelli a toni a come si chiama la flavor useremo una mesh 325 io mi sono già tagliato un pezzetto che più o meno potrebbe andar bene se vedete bene come fate a determinare dritto e rovescio alla mesh è un po come con le stesse con i tessuti basta osservarlo se se voi tirate di qua lui si 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 piegherà in direzione del dritto quindi seguite la piega vuoi dire che la parte con la quella verticale cioè l'ordito in questa direzione si vede di più con la 200 super fine però chi se ne frega io l'ho tagliato un po modo piuttosto grezzo però rifiliamolo un po così che dovrebbe bastare avanzare questo è il nostro quadretto non lo so se è giusto non ne ho misure però secondo me si sarà tipo 4 per 4 per 5 di 3 25 adesso l'ossido poi proseguiamo io userò il mio questo cannerino qua che un cannello qualunque che ho trovato per una specie di serve per caramellare che cacchio nessuna roba per la cucina però è buono perché c'è la fiamma molto molto concentrata adesso devo farmi capire come si ossida la mesh vedete si parte da un angolo e si scende un po così a strati bruciando un po tutti quelli pelucchi che sono laterali ovviamente si gira mamma mia che fiammone sì perché tanti dicono la mesh è inutile altri pure dicono che la mesh è totalmente inutile posso anche capire perché sta roba ora qua però noi non siamo come tutti gli altri una bella sfiammata vedete che comunque i fili bruciano questo gioca a nostro favore dovrebbe bastare ok adesso cosa abbiamo fatto abbiamo fatto la nostra mesh come vedete è abbastanza uniforme che era il nostro obiettivo principale adesso io poi cosa farò prendo questi due queste due puntine voglio fargli un lavoro un po un po molto esercizio di stile perché tanto una messa forza se non fare tutti a me la facciamo vedere qualcosa di diverso allora prima cosa queste dobbiamo arrotolare così quindi la prima cosa e raddrizzarla un po la mesh così questo tanti diranno ma io avrei già fatto tre volte lo spin si capito però uno sciarro deve uno che svapa una volta la vita deve mettersi dietro la mesh che sennò che senso ha la vita allora abbiamo detto giusto dritto e di qua quindi io prendo il mio aghetto che è corto vediamo questo troppo lungo vabbè e la mesh è una roba strana bisogna mettersi dietro è serio la prendiamo il nostro aghetto perché voglio lasciarli un minimo di foro centrale ma poi far vedere come fare loro togliamo così cosa fondamentale partir bene perché se si parte bene dopo problemi sono meno quindi lo facciamo quindi la facciamo così lo mettiamo proprio più possibilmente a contatto con con la spinetta e andiamo e cominciamo a rotolarlo la cosa fondamentale tanti tanti sbagliano in questa cosa qua che fanno così ma invece sbagliato bisogna fare il contrario perché superficie comunque quella contatto con la mescia più lineare mentre se fate così vi rimangono due come qua come qua vedete adesso ho messo un po a fuoco vi rimangono due come qua e poi viva il hotspot un negativo positivo perché la comunque la mescia non tocca quindi cosa facciamo giriamo e lo facciamo come dire in questo modo quindi usiamo i polpastrelli così questo è proprio abc da mesciaro allora adesso ovviamente abbiamo un gigantesco foro per ovviare sta cosa cambiamo la punta prendiamo un attimino più più spessa se riesco a trovarlo ma anche se non riesco è uguale facciamo anche senza usiamo di queste facciamo così poi lo srottoliamo quasi fino alla fine lo srottoliamo quasi fino alla fine poi togliamo il pernetto riprendiamo a fare lo srottolino tenendo più dritto possibile perché se lo arrottoliamo dritto faccio che funziona adesso l'abbiamo un po preformata e cosa abbiamo ottenuto una specie di non so se cavolo come faccio farlo vedere ecco una specie di rottolino specie di rottolino che comunque dentro c'è un po di foro foro centrale ma non tanto e comunque la mescia è reattiva senso che quando noi lo inseriremo dentro nella cosa avrà una certa resistenza opposizione perché vedete come l'ho messo giù è diventata appicciccione questo cosa ci serve ci serve per fare in modo che l'aderisca meglio possibile alla coi potete anche ripetere l'operazione se non mi serve se vi sembra un po troppo grossa però generalmente quando lo inseriremo dentro nel nostro robot si comporterà come vogliamo noi quindi adesso lo mettiamo da parte e ci facciamo la coil nel frattempo sono sceso giù a prendere mio mio calibro super vissuto generalmente recensori hanno tutti i calibri super nuovi super figli super cinesi no questo qua invece ha lavorato vent'anni quindi è ben rodato allora vi dirò quanto è fuori della mesh qua mi dice qualcosa tipo 326 37 la punta che invece ho trovato io per terra alla parte dove andrà la coil 293 la parte invece che sì che si va a conficare dentro nella nel foro e tipo 3 3 10 sembra quasi ugualizzato ma non ci credo perché sono punte 304 quindi faremo un lavoro di questo tipo che è bello perché si può scusate sempre contrario si può tenere cioè si tiene così e si fa la si fa la coil intorno allora mi sono andato anche comprare il filo useremo questo qua nicrom 80 30 gorge che sarebbe il 0 25 perché perché quattro spire di questa roba sulla punta da 2 92 che quello che è 2 93 cioè fuori un uomo almeno questa è la speranza fatto un po di prove ma alla fine essendo molto old school come concept di bambini queste robe qua io non ho provato con i fili russi né con le cose complesse perché non è che mi piacciono molto quindi faremo quattro spire di sta roba che fra l'altro introvabile secondo me in un anno intero avranno venduto uno e l'ho comprata io senza ossidarla ossidare il filo di solito cosa fanno ossidano il filo però puliremo un po prendono filo e lo bruciano con micro non serve micro ma praticamente è una nulla di adattazione termica impercepibile per evitare quell'effetto molla di gradevole che per esempio succede con canta bisognerebbe scaldarlo canta questo no questo non ha alcun effetto molla e infatti useremo quello anche perché comunque quattro spire sulla punta 2 90 qualcosa viene poi tipo uno si spera usano la box non mi piace usare il quella quella specie di roba di stand ma poi vi faccio vedere come fare il quindi voi non siete costretti potete usare anche un gig qualsiasi c'è un gig che ha una punta da 3 tanto tanto esce fuori uguale lo fermate così e voglio mettere prima il filo quindi si monta tranquillamente sulla box così poi apriamo negativo e apriamo positivo fatelo fatto diventare un po più lunghetto e come vi dicevo prima tipo ha lasciato due scanalato c'è una scanalatura molto ampia e da davanti pure quindi facciamo e cavolo cosa facciamo adesso qua ok facciamo passare così e lo teniamo premuta con il pollice adesso io non vedo un cavolo nero però basta che beccate fuori la scanalatura che vi dicevo prima che poi serve anche per che serve anche per evitare di andare a toccare con eventuali risiedi di filo dentro qua che qua è positivo quindi ci rimane un lavoro di questo tipo sto sudando bagai gli ho detto stefano guarda che è molto difficile fare una eccessione di questo tipo ma non perché non sono capace ma perché è difficile da riprendere vedete la solina qui dovrebbe passare un po di aria allora adesso non so se ce la faremo per un pelo va bene proviamo no non ce la facciamo bisogna scontarlo adesso vi tenete in mano la cosa magari stando attenti a rompere filo così poi mettete dentro a vostra punta la tenete tendete un po il filo pochino e li facciamo quattro giri non serve una pinza seria raggruppate un po quella raggruppate ancora un po adesso ve lo ingrandisco un po questo è lavoro da fare e qua è un po tutto un giochino di equilibrio i figli non devono essere aderenti infatti io quando vi faccio sto lavoro qua io sento che da qualche parte c'è un filo che tocca più degli altri che poi quando faremo la mesh metteremo la mesh questa poi sicuramente ci darà qualche rogna e questo video durerà un'ora e mezzo però almeno ripassiamo un po la mesh chi se ne frega adesso che siamo in questa circostanza qua sistemiamo leggermente respire ma giusto per cercare di dividerle perché dopo e osservandolo da lato sempre tenendo sempre tenendo il filo osservandolo dall'altro possiamo vedere che comunque le leg che sono una e questa qua su negativo 2 più o meno hanno la stessa lunghezza questo è fondamentale ok adesso possiamo stringere con il nostro cacciavitino senza neanche tanto ammazzarlo perché tanto ci sono tutte queste paratie che tengono dentro filo e abbiamo questa situazione qua abbiamo quattro spire giusto questo mi sembrava questa cosa ma in realtà essere un riflesso dalla vita lo spostiamo un pochino e rendiamo un po scorrevoli perché quando tiriamo fuori la pinza e la punta dopo fare un po diversi poi la sistemeremo quando mettiamo dentro la mesh ovviamente direzione di estrazione col mio attrezzo che non fateci caso è da sotto questi adesso lasciamo lì magari dovremmo sistemare un qualche modo e proviamo vedere come si attiva ecco vabbè perché c'è la cuoccio un po se mi buco tutte le dita batteria scarica non è massimo però vabbè adesso vediamo quanto è uscita 104 vediamo un po com'è perché veramente sembra malaccio proviamo di essere attivando magari se un po veloce perché la passiamo un pochino così togliamo anche una luce tipo questa vi faccio vedere come funziona per vedere se si attiva da dal centro in fuori basta abbassarlo 2 mezzo un po poco diciamo tipo 5 che deve partire dal centro e andare verso esterno come nel nostro caso e lo vedete perché una volta si usava meccanico ma noi non c'è frega niente perché basta abbassare la box a minimo minimo dei giri e possiamo evitare stare qua ok adesso tagliamo un po questi poi tagliamo del tutto quando ci mettiamo dentro la mesh la mesh l'abbiamo lasciato da qualche qualche parte qua ovviamente buttare eccola questo dobbiamo inserire dentro la mesh e sono andato a cambiare la box perché la batteria è andata vabbè adesso faccio vedere come inserire la mesh qua abbiamo già ossidato due tre volte andiamo dentro nel nostro foro come vedete fa un pochino di opposizione ma non più di tanto ci fermiamo dove c'è un ring pochino un pochino un po più in alto proviamo abbassiamo un po anzi non lasciamo così se ne frega ok nostro obiettivo è che dal centro verso esterno vedete che ci siamo adesso tagliamo la mesh lo teniamo così teniamo negativo e andiamo tagliando pari qua sembra grave ma in realtà non è perché alla fine poi chiaramente dopo il taglio la mesh si deforma in questo modo ora ripristiniamo il suo forerino centrale vediamo se è rimasta dove era prima di sotto siamo già a posto forse leggermente corta però chi se ne frega tanto poi quando lo farete voi prendete le misure certamente allora cosa facciamo adesso facciamo che prendiamo la sua chiavetta anzi tagliamo anche anche negativo vediamo la sua chiavetta e andiamo a vitarlo in fondo sganciamo mettiamo sulla box adesso però ci vorrebbe un po di liquido io userò questo qua anche perché li ho provati un po tutti diciamo che sulla mesh vabbè è piuttosto semplice dire va bene tutto però questi qua tabacchi aromatizzati secondo me sono quelli che vanno meglio poi andiamo a filare da qui sempre io uso purtroppo è uno dei difetti secondo me che che a questa cavolo di 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 bordo intorno e bisogna un po faticare per rifiare infatti mi sono procurato la siringa perché con quell'altra non c'entrava dentro però vedete che è difficile capire quando è pieno perché straborda vogliamo un po dobbiamo attivare nonostante sono quattro spire di 0 25 di micro di 80 e 30 gauge fa un botto di vapore come vedete sembra che vada abbastanza bene alimenta lo si vede soprattutto dal fatto che la mesh è umida anche adesso ovviamente sovra alimenta perché abbiamo intasato di brutto con liquido però siamo a 16 5 boh mi sembra buono scusate per il video interminabile però qua non si può sbagliare perché bisogna bisogna beccare buco grande buco piccolo eccoci qua che sudata adesso proviamo a svarparcelo un po e ci raccontiamo due bezzalette e andiamo sui conclusioni finali buono 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 la trondeo e la mesh c'è un cavolo da fare chiunque abbia mai provato la mesh accetto la fatica vero il video durerà 40 minuti però alla fine è nato un fatto bene non c'è niente da dire diciamo che non è privo di difetti è tutt'altro è bello il sistema che si può staccare il deck e rigenerarlo da parte è bello il sistema della delle torette che si possono mettere dentro insomma in due modi la leg e il tiro è fluido però pischia fischia un po ha un botto di vapore non condensa da punto di vista elettrico è costruito bene è solido finiture sono perfette tipo ci sa fare indubbiamente il suo primo ottimizzatore ci sa fare perché comunque ha cercato un po di andare a risolvere i problemi della vesce meticale che comunque sono sempre stessi da sempre quindi ha fatto quella piccola solina dietro lì che è un po alimentare perché comunque il cambio aria appunto liquido dentro del tank è fondamentale ha fatto un foro bello ampio quindi ci possiamo farla meno da 32 fino a due e mezza e provate fare anche due e mezza però un po troppo sovravi menta quindi io starei su su tre e comunque rimane un po di aria intorno certo bisogna aggiungere un po di trucchetti ma con qualunque genesis sempre la stessa cosa roma è molto buono roma è mostruoso leggermente nitoso per i miei gusti perché io non sono più non è che ne vanno pazzo per il per il litte troppo 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 accentuato secondo me perché loro in giappone non usano nicotina proibizioni ma adesso non so esattamente cosa funziona da loro però hanno problemi con per reperire la nicotina credo non so quindi il kit è bello pronunciato e altro bello costruito alla fine salta fuori che sono stati giapponesi i propri custodi della mesh perché la mesh era quasi scomparsa nel cinque anni fa e noi qua in italia abbiamo fatto un gruppetto scuro mesh dove dove abbiamo cercato di preservare più possibilmente questa roba qua che soprattutto vive ancora sono quattro anni che funziona è comunque un gruppo didattico su facebook dove io e francesco barba insegnavamo perlomeno tentavamo di trasmettere un po' sta roba qua della mesh e saltano fuori adesso giapponesi uno due tre che fanno questi genesis perché da loro è ancora rimasto un'arte un'arte viva niente a me altro mi è piaciuto molto sempre prezzo alto perché arriva dalla cioè la batteria del giappone costa non c'è un cavolo da fare mi piace per una serie motivi faccio la rigenerazione perché io l'ho fatto lunga per spiegare magari tanti mi dicono no ma si fa di un bel video sulla mesh spiega un po come funziona si chiara però dura un'ora dura un'ora e terza volta che lo giro perché è difficile dal punto di vista è ripresa perché comunque anche con le con le reflex varie con le cose che ho girato con cellulare non volevo mancare di rispetto a nessuno però era unico modo perché comunque si può vedere con le reflex no niente è un genere decisione proprio non c'entra dire veramente fatto bene piaciuto contento però vi dico sempre la solita cosa non fidatevi dei recensori cioè se vi capita mai provatelo da qualche amico magari andate nel negozio fate l'originale del negoziante provatelo va molto bene con i tabacchi veramente buona con le creme l'ho anche provato perché intanto non è svapolita che sta lì a provare con le creme però con i tabacchi effettivamente molto veritiero a questa resa accurata l'accuratezza della sua vittura maggiore perché comunque la mesh lo sapete cioè non è come cotone che magari imbroglia un po' rautonda un po' la campagna con la mesh succede e quello che c'è esce infatti io ho usato Milano perché comunque raggruppa un po' sia i fruttati che i tabacchi che è un po' le creme insomma diciamo che è un misto tra le due specie ecco e questa cosa qua comunque sono a me si sente perché mesh tende a stratificare un po' come come faccio a spiegarlo scende i sapori quindi se abbiamo un'arancia un tabacco o due tabacchi così te li fa sentire tutti come si deve l'ho provato l'attacchia va bene gli anglici per questo vanno bene tutti i tabacchi in generale unico che mi è rimasto un po' un po' smorto quella virginia però la virginia è un po' dolcino quindi non è che ti dà come dire questa roba qua da meditazione va bene quando te lo carichi qualcosa di veramente speciale non sto dicendo che non sono vergini speciali anzi non sono tante buone però come dire cioè piuttosto stumbarli molto molto bene complimenti al ragazzola speriamo che che continua a fare qualcosa perché questo è un progetto da punto di vista innovazione e nottevole scorporabili del corso facilità di rigenerazione difetti sono ovviamente che non vedo quanto liquido c'è dentro però non si poteva fare diversamente perché purtroppo è tutto un pezzo unico dal punto di vista ingegneristico non poteva farlo diversamente secondo secondo il difetto del tiro fischia un po' non è fluido ma fischia perché da fuori qua che entra non è detto che entra direttamente la bucca mi ha fatto un giro intorno questo inter cappellini qua vabbè però sono finti i difetti questi qua complimenti questo è tutto per questa volta adesso ci vediamo presto per colate con altre recensioni c'è tenuto ci tenevo molto a farlo vedere perché comunque adesso a quanto pare la era ne sta riprendendo nessuno è più contento di me detto questo vi saluto e vi invito a vedere la nostra prossima sessione iscrivervi al gruppo facebook e sul canale youtube mettete un like se il video vi è piaciuto se non fate finta di niente ciao alla prossima ciao